Musica Consolido appuntamento con la rubrica del martedì, l'aforisma del giorno, ovviamente associato a una delle notizie che abbiamo raccontato nel corso dell'onda TG serale, una rubrica curata come al solito da Carlo Di Ruscio. Buonasera Carlo, qual è l'aforisma, il motto che hai scelto per questa sera e perché ovviamente? Buonasera a tutti quanti voi, allora mi riferisco prendendo spunto dalla notizia del liceo classico che dopo dieci anni da sisma è ancora chiuso e gli studenti manifestano in piazza per invocare la riapertura, ma sembra che questa riapertura non è imminente. Io dico come si usa nel pianeta giumonese, peguro pasce e campana suona, tradotte in italiano, mentre la regola pascola tranquillamente, la campanella che ha appesa al collo suona tranquillamente al movimento della sua mandibola, il tutto avviene nell'indifferenza del passore del cane di vicinanza di tutti quanti. Sono quegli episodi che avvengono dove c'è poco interesse delle istituzioni alla riapertura di questa scuola, evidentemente, perché gli anni passano, gli studenti aspettano, ma la scuola è ancora un po' di ripartire. Grazie a tutti!